zitto sense ricorda perché siamo qui stiamo cercando umani come quello oh mio dio è un umano giusto sì sì eccellente umano tu non passerai quest'area perché io il grande papyrus te lo impedirà naturale sembra che dovremmo giocarci la carta dalla cattura così sia niente che una futura guardia reale non possa fare se ne è andato cosa e così sarà